Proseguono gli incontri del Caffè Letterario nei locali della Biblioteca della Regione Piemonte di Via Confienza 14 a Torino, occasioni per conoscere opere di autori ed editori piemontesi ogni giovedì alle 15.30. Prossimi appuntamenti il 19 marzo e il 26 marzo con la presentazione dei libri I Volti della Magia, Viaggio in una credenza immortale di Fabrizio Manticelli e Infanzia di guerra in Valle Cervo, un giardino di ricordi di Elena Accati.